Abbiamo sms per le pianticelle. Quali sono le differenze tra il settore giovanile della Fiorentina e quello del Prato? La domanda è rivolta a Marco Lonzi perché in passato Lonzi è stato anche allenatore per un paio di stagioni delle formazioni giovanile della Fiorentina. Allora, le differenze? La differenza sostanziale è che a Firenze fondamentalmente cercano molto il risultato, indipendentemente dalla categoria, indipendentemente da quello che può scaturire da una prestazione, lì si presume che il risultato sia sempre a favore della squadra che potenzialmente, anche per un discorso di reclutamento, anche per un discorso di blasone, anche per un discorso che è sempre una squadra di seriali di livello internazionale, deve essere prioritario rispetto alla prestazione. Invece qua a Prato noi percorriamo un'altra cosa, il risultato attraverso la prestazione. Se quindi noi diamo continuità, insegniamo a questi ragazzi come giocare, poi ci togliamo delle belle soddisfazioni. Il risultato fino a se stesso, ma non tanto la Fiorentina, ma quanto la realtà del calcio italiano, se si vince si gioca bene, se si perde si gioca male. E dovrebbe cambiare un po' questa mentalità.